C'è uno che è stato in blocco per ben dieci giorni Vabbè ragazzi è esagerato però Che è? CBR Secco Nooo È ritornato nella grande Per cercare di consegnare il suo carico di mucche Sì Pronto con me CQ 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 Gringhella? Pronto? Sì, store camionaro, Gringhella? Ehm... No, credo che se l'abbia saluto Nooo Perché? Chi parla? CBR Secco on the mic K Devo in verticale lì da te, Gringhella Non ho capito cosa vuole, sinceramente Niente, Nusto, hai capito che ti ho detto fino adesso? No, sinceramente non tanto Allora, ascolta Non sto in regola col barra pesante, no? Ah, ho capito Eh, se ci sono puffi per strada Eh, sinceramente non saprei dirle Io sto a venire da te, sto arrivando in verticale Sì, ho capito Oh, vabbè, invia per questa cartolina, così arrivo, va Ma che cartolina? La vostra Deve venire a caricare K, scaricare A scaricare, che cosa? C'ho i mucche Eh, immagino Allora ho sbagliato posto Ah, Gringhella Ho sbagliato posto E dalle, questo ho sbagliato posto Invia per questa cartolina, va Ma scusi, ma, cioè, lei cosa deve venire a fare qua? A fare la consegna Ma di cosa? C'ho i mucche Sì, ma appunto ho sbagliato il posto E dalle, mi hai detto che siete voi quelli là Noi siamo con SRL, quello sì K No, con C K No, con C K Hai sbagliato? Come ho sbagliato? Eh, C, SRL, non K, SRL E che c'entra K, SRL? Eh, non so, mi sei dici tu K K, por di va bene, con C Oh Sì Hai capito? No, semplicemente vado Proprio non ci arrivo E un attimo che questa è rincoglionita Eh, sì Te devi svegliare, Cringhella Oh Sì, mi dica Io sto all'incrocio, stiamo a fare la coda Ma dove? Io sto in grande Sì, ma dove? Direzione Laguna Beh, ma allora è un altro posto Cioè, non siamo dove andiamo Per quello ti ho detto quanti KM mancano C'è, sono i blocchi, sono in ritardo Ma, e lei è sbagliato a posto che deve venire a scaricare le mucche qua? Tu non ti preoccupare, invia a me questo indirizzo No, non è tanto questo indirizzo Io te le lascio davanti e te lo dico Beh, ma è sbagliato a posto qua Ti assumi la responsabilità, eh? No, no, no Non mi assumo la responsabilità di me Allora dammi questo indirizzo Poi quando arrivo vediamo Mi permetta un attimo Ma che te permetto? Sbrigati Pronto? Brecco, 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 gringhello? Chi parla? CBR Second Mike È che quella di prima non capiva niente Che cazzo è questo? Oh, sono un camionaro Sì, ho capito che sei un camionaro Beh, cosa vuoi? E niente, mi serviva la vostra cartolina, K Niente, là sono tutti rimbambiti, ragazzi State tranquilli, non suonate Ma cosa devi venire a scaricare? Cioe mucche Che è impazzito sto, ma che cazzo, eh? Che hai detto? Ma sei impazzito? Io sono impazzito, sto attrapagando Ma scusate, ma cosa devi venire a consegnare? A ridanghe Come dite nella lingua vostra? Cioe mucche Oh, vecchio, guarda che noi facciamo capannoni qua, no? E ce li troverete mette dentro le mucche, nei capannoni, no? Ma che cazzo? A gringhello, modula Questo qua è impazzito Ma non so, è impazzito, io so da dove arrivo Da dove? Direzione 06 Ma che direzione è? Da Capitale Sì, ho capito Hai capito, sì Eh Eh Sai Ma regà, questi incianno vogliete lavorare Aspettate un attimo, non sonate Au Che cazzo Ma che sei impazzito? Gringhello